con voi una ricetta vegetariana e ho portato un po' avanti la ricetta perché logicamente non abbiamo molto tempo ho bollito delle melanzane viola le ho tagliate a cubi molto grossi e poi le ho bollite le ho strizzate un po' e adesso dobbiamo tagliarli a pezzettoni perché poi dovremo comporre le nostre polpette gli altri ingredienti sono uova, pangrattato e un po' di formaggi quindi se abbiamo un po' di caccio cavallo un po' di ragusano grattugiato una provola degli odori come perzemolo, basilico in estate anche la mentuccia è buonissima possiamo utilizzarli abbiamo tagliato in modo grossolano le nostre melanzane adesso aggiungiamo un uovo e cominciamo a comporre un po' il nostro impasto aggiungiamo del pangrattato che io già ho condito con del perzemolo del basilico, dell'aglio e del caccio cavallo in modo tale da essere un po' più veloce nella realizzazione della nostra ricetta se vi piace un po' il formaggio che fila o il formaggio croccante nelle polpette potete aggiungere del formaggio io ho qui una provola di un'azienda locale di giarratana che è una provola molto buona e che se voi gradite un po' appunto dei pezzettoni di formaggio dentro potete utilizzare considerate che questa è una ricetta che va benissimo sia per gli amici che devono consumare cibo gluten free che per gli amici che hanno la necessità di mangiare anche senza lattosio perché utilizzando un formaggio caprino un formaggio pecorino possiamo benissimo servirli servire queste polpette un po' a tutti non ti ho fatto notare che ho anche il grembiulino fatto dalla mia amica Rita Curcio che va un po' a completare la mia divisa da cuoca sia casalinga che professionale adesso che abbiamo l'impasto delle polpette pronto possiamo aiutarci per dare una forma alle nostre polpettine con due cucchiai questa è una ricetta che si può andare sia a friggere che a cuocere in forno ma in entrambi i casi è molto semplice dare la forma delle polpette con due cucchiai in modo tale da formare una polpetta che sia uniforme e che poi una volta che andremo a presentare avrà sempre la stessa forma io ho preparato già qui la friggitrice quindi vado ad immergere la nostra polpetta in friggitrice nel frattempo vado a comporne delle altre spero di aver accontentato la mia amica Carmela con la realizzazione di questa ricetta e così anche per le prossime volte se tu avrai delle richieste da parte di amici che vogliono realizzare delle ricette con noi live io sono disponibile a realizzarle con loro allora io amplifico quello che tu stai dicendo e quindi Alessia si rende disponibile quindi scrive sì sì tranquillamente sicuramente considerazione il tempo che abbiamo avuto certo certo sicuramente ecco se vogliamo fare un incontro semplicemente con la realizzazione di alcune ricette io sarò disponibile per aiutare le nostre amiche qui come ti avevo promesso ho messo in bella vista anche il pane che ho realizzato ieri sera il pane fatto con la farina di Granny Blay e poi ci sono sul tavolo altri prodotti proprio locali del territorio siciliano e anche proprio di palazzolo come la salsiccia che è un nuovo presidio slow food da tre anni di cui andiamo molto fieri un acquavite di miele un olio locale e del miele quindi diciamo l'io compro siciliano è veramente a 360 gradi io ti faccio vedere qui le mie polpettine di melanzane ecco qui le decoriamo con una fogliolina di basilico e il nostro pranzo è servito sono delle polpettine guarda buonissime leggere che sono ottime sia come aperitivo che come un secondo vegetariano come un antipasto io le offro spesso sia ai miei ospiti che vengono nelle cooking class che alla mia famiglia durante la stagione estiva quando le melanzane sono proprio di allora qui arrivano messaggi per te a Balanghe Alessia che bontà che buoni salvorenda riparla del territorio il target di turismo medio alto che si trova ad Ortigia si dovrebbe espandere a tante location dove sia come scenari o paese artistico che ambientale meritano tante attenzioni comunque Ortigia è veramente magica poi dicono meraviglia ci piacerebbe Daniela Vinci ti dice che bontà insomma vorrebbero e non sentono il profumo e non sentono il profumo Katiusca perché guarda proprio il segreto di questa ricetta è che prima viene mangiata grazie al profumo un tavolo allora senti Alessia io faccio così innanzitutto volevo salutare tutti gli amici che ci hanno seguito in diretta continuate a seguirci scusatemi se qualche messaggio durante la lettura della diretta mi sfugge ormai siamo tanti ho un piccolissimo schermo dove scorrono velocemente per cui magari a volte mi sfugge di leggere qualcuno però perdonatemi sono calogero maltese ti fa sempre i complimenti